Era un parco della salute, immerso nel verde, cresciuto attorno alle sorgenti di acque termali riconosciute tra le migliori d'Europa. Ora è diventato covo per vagabondi e vandali. Persino zona di spaccio, sgominata di recente dai carabinieri, è in passato di messe nere. È una discarica, con rifiuti di ogni tipo. Fa male vedere il parco delle ex terme di Bacedasco trasformato così. Siamo stati portati sulle tracce di questa metamorfosi da alcuni bikers e camminatori che amano percorrere il sentiero dentro all'ex parco, una strada vicinale ad uso pubblico. Ci sordiamo al confine tra Cortina di Alsenio e il territorio di Castellarquato, sotto il quale ricadono i 120.000 metri quadrati che un tempo appartenevano al parco termale e oggi sono di proprietà privata. Per volontà del proprietario o un imprenditore milanese, ora la situazione di degrado dovrebbe finire. Sta infatti muovendo i primi passi anche dietro sollecitazione dell'amministrazione comunale guidata da Ivano Rocchetta, un progetto di riordino e riqualificazione per riportare qui un parco giochi attrezzato e riattivare le fonti. Nel frattempo lo status quo è quello di una via crucis di rifiuti, coperture di ethernet, pneumatici, una montagna di gomme usate per l'irrigazione, filtri di ricambio per l'olio, blocchi di cemento, giochi per bambini distrutti, un divano, edifici faticenti. Speriamo che presto i vandali siano sfrattati e tornino a giocare i bambini.